Rita Bortolazzi, responsabile vendite Exivo di Dorma Caba. Dorma Caba qui è presente a Sicurezza 2017, con quali novità? Siamo presenti con tantissimi prodotti, uno dei quali soprattutto è la nostra soluzione in cloud, Exivo brillante, comoda, versatile, che dà spazio molto al partner e soprattutto all'utente finale, che finalmente diventa il protagonista dei suoi sistemi e del suo ambiente. Benissimo, quali quindi i vantaggi, oltre a quelli che ha già enunciato, di questa soluzione nuova per Dorma Caba? I vantaggi sono molteplici, è in grado l'utente finale ma anche il partner di avere accesso attraverso internet, quindi semplicemente attraverso una pagina, una home page protetta con un indirizzo HTTPS, è in grado quindi di usufruire di Exivo da diversi tipi di dispositivi, tablet, piuttosto che PC, piuttosto che smartphone, tutto quello di cui noi oggi usiamo e abbiamo correntemente. Altre funzionalità sono l'apertura da remoto, per esempio, quindi per dare la possibilità all'end user di entrare direttamente nei suoi varchi. Abbiamo le aperture con PIN, abbiamo un sistema brillante di messaggistica interna tra partner e end user, nel quale possono comunicare notizie, problemi e tutto quello che c'è da sapere. Inoltre tutti gli aggiornamenti sono gratuiti, quindi arrivano direttamente dalle nostre piattaforme in Svizzera e arrivano in tutti i dispositivi cloud. Benissimo. Oltre a questa offerta, quali quelle che vi distinguono come Dorma Caba? Dorma Caba ormai è presente in 130 paesi, quindi siamo diventati un grande colosso e i prodotti sono davvero numerosi. Facciamo fatica anche noi per gli addetti ai lavori a sapere davvero le peculiarità di ognuno, ma da pareti scorrevoli, pareti divisori, abbiamo sistemi di chiusura meccanici, meccatronici ed elettronici, abbiamo soluzioni di controllo accessi legate al mondo degli hotel e anche delle strutture ricettive. Credo che uno dei nostri vantaggi sia l'essere in grado di seguire il cliente dalla fase di progettazione fino all'installazione dell'ultima maniglia sulla porta. Credo che questo sia un valore aggiunto non da poco.